tratteremo è il blues. Un tipico ensemble blues è composto da basso, batteria, piano, chitarra e voce, ma si possono aggiungere altri elementi come l'armonica bocca, la tromba o il sassofono. Per inserirti nella community dei musicisti blues, ecco quello che devi fare. Diventa un fenomeno della pentatonica e non andare oltre. Al massimo aggiungi la blue note. Deve essere la tua scala di riferimento, il tuo unico dio. Generi come il rock o il jazz sono nati dal blues, per cui vanno orgoglioso. E se ti capita di sentire un musicista jazz che è mille volte più preparato di te, afferma con convinzione che la tecnica non è nulla senza avere il blues dentro. Devi lavorare in un centro commerciale e vivere in una zona di periferia. Il tuo frigorifero deve sempre essere pieno di birra per le jam session organizzata a casa con gli amici, dove suonerete per tre ore lo stesso giro in me o in là. Indossa sempre un gilet o un completo elegante per le occasioni speciali, oppure un classico jeans e una maglietta. Questi sono solo alcuni nomi di musicisti blues emergenti che ti consiglio di ascoltare. BB Queen e i suoi fratelli Albert e Freddy, Eric Clapton, Maddie Water e Nonna Simone.